È grande soddisfazione. Quando ricevo questi premi rimango sempre meravigliato, però anche se non cambiano la vita fanno piacere un grande po'. Il cittadino dell'anno 2020 è Carlo Pagnini. Il 93enne poeta, attore e depositario del dialetto pesarese è stato premiato nell'ambito dell'annuale riconoscimento conferito dalla redazione pesarese del resto del Carlino. Carlo, premiato dal Carlino, che per l'erede di Pasqualone ha ricevuto il più alto numero di tagliandi dei lettori. Presenti alla cerimonia tenutasi sabato al Museo Storico Benelli, anche gli altri quattro finalisti in concorso. Al secondo posto si è classificato Don Marco De Franceschi, ex parroco della Chiesa del Porto, mentre sul gradino più basso del podio Antonio Benedetti, docente nonché responsabile della clinica di gastroenterologia all'ospedale Torrette di Ancona. Quarto, un altro medico noto come il luminare dell'ortopedia Raul Zini. Quinte, le sorelle Giuliana e Claudia Gatti, che nei momenti più duri della pandemia sono state promotrici di una raccolta fondi, capace di acquistare 18 postazioni di terapia intensiva per l'ospedale San Salvatore. Siamo felicissimi di questa giornata, ringraziamo tutti quelli che sono venuti, abbiamo fatto questa giornata perché è un segno importante del radicamento del nostro giornale che è il più letto assolutamente del territorio e quindi è importante che ci eravamo e a questo punto un appuntamento anche per il prossimo anno, per il nuovo cittadino dell'anno, che è sempre una cosa che segna il legame del Carlino di Pesaro con il suo territorio.